Giro di boa all'arcoveggio per questa quarta corsa che vede ancora impegnati i gentlemen, non corre drum numero 3, restano 14 dietro l'autostart, 1 Dexter NP, 2 Cartier, 4 Cistrosodina Oil, 5 Delivery Day Mag, 6 Drive Jet, 7 Delmonica Matto, 8 Dolce Stella, 9 Dino del Brenta, 10 W Etual, 11 Didinski SSM, 12 Doudville in terza fila, 13 Daphne Di Poggio, 14 Daphne Griff, 15 Don't Touch B. Favori per Dexter NP in chiusura, corsa comunque molto incerta, macchina che accelera e lascia andare i concorrenti, l'errore di Don't Touch B, mentre lungo la corda Dexter cerca di contenere Delivery Day Mag, che insiste al suo esterno, poi prende vantaggio Dexter e può accodarsi in seconda posizione Delivery Day Mag. Numero 8 Dolce Stella, squalificato. Nella sua scia precedendo Cartier, mentre in quarta posizione dovrebbe essere il numero 2 Cartier, squalificato. E così rimangono avvantaggiati Dexter NP, Delivery Day Mag del Monica Matto, poi Dina del Brenta in quarta posizione. Se ne vanno i primi 400 metri in un veloce 28,2 e i 600, vediamo gli 800 ora, pletati in 58,7. Davvero svelta l'andatura imposta da Dexter NP. Numero 10 Dhabi Etual, squalificato. Delivery Day Mag e quindi Del Monica Matto, non cambia nulla assolutamente alle sue spalle, del resto il chilometro in 1,14 e mezzo, è piuttosto veloce per la categoria. Dalla terza posizione ora però muove Del Monica Matto, che scatta 500 dalla conclusione, raggiunge e appariglia Delivery Day Mag, paletto dei 400 finali, superato con un parziale in 14,9. In fuga Dexter NP, cerca di avvicinarsi Del Monica Matto, al quale rientra però Delivery Day Mag. Più indietro c'è Citrosodina Oil, ancora Dhabi Etual, nel finale il vantaggio di Dexter NP cresce, aumenta e vince facile per il doppio di Matteo Zaccherini, mentre per il secondo è il numero 7 di Del Monica Matto, che controlla fin sul palo i tentativi finali di Daphne e di Poggio, che conquista il terzo posto. 1,14 e 1, il ritorno alla vittoria per Dexter NP, dopo una serie di rotture, il rientro all'ultima uscita con l'errore sfortunato di 100 finali. E la vittoria oggi con Matteo Zaccherini, che raddoppia così il successo ottenuto in precedenza con il debuttante Ferguson. Ancora Matteo Zaccherini, che mette a segno un bel doppio in giornata a Bologna, per conto di Augusto Borghetti e del signor Nicola Pisacane. Grazie a tutti.